Perché la Liga Nord è contro questo svuotacarceri? Perché si chiama proprio così. Cioè, questo è uno svuotacarceri. Il decreto del Governo ha portato adesso a delle soluzioni che sono veramente imbarazzanti, per non dire veramente pericolose per la nostra comunità. Ho un provvedimento del Governo che tra l'altro si unisce ad un altro che è stato già approvato dalla Camera e che sta arrivando adesso in Senato, che sono volti tutti a trovare delle soluzioni tampone a un'emergenza che è quella delle nostre carceri, la sovrappopolazione, il sovraffollamento delle carceri. Ma non è questa la maniera per affrontare il problema. Il problema va affrontato costruendo nuove carceri, ristrutturandole, concedendo quindi di nuovi posti, non di certo svuotarle. Quello che ci sorprende è proprio questo ragionamento, che è proprio al contrario. Non è che vengono determinate la misura delle carceri in ragione del numero dei carcerati, ma qua si va a determinare il numero di carcerati in ragione della dimensione delle carceri. Quindi, i carceri non bastano, quindi liberiamo i criminali. Ma noi ci chiediamo, ci siamo posti? Perché è un problema che non è solo, squisitamente, di politica, di demagogia. Qua stiamo parlando di un problema veramente serio. E noi ci chiediamo, ma andiamo a dirlo alle persone offese, alle vittime dei reati, che il criminale è libero, è libero di tornare a casa sua, per qualsiasi tipo di reatto. Stiamo parlando veramente anche di un problema sociale. E il momento che stiamo attraversando adesso, di crisi economiche, che ha visto anche incrementarsi purtroppo la delinquenza. I provvedimenti come questo sono deleterie, all'incontrario il governo, il Parlamento, la maggioranza. Devono cercare di trovare il maggior rigore nella legge. Una legge che va rispettata è una legge che crea anche una buona società. Quindi noi insistiamo ancora, no a questi provvedimenti. Ragioniamo in maniera seria, finalmente seria. Non facciamo gli italiani, non facciamo la solita legislazione all'italiana. Niente provvedimenti d'urgenza, tampone, provvisori. Facciamo una vera considerazione. Sistemiamo il problema delle carceri e non le svuotiamo così liberamente.